carico sul processore in questo senso io non vuole streamare lui sta streamando ma fa da spettatore tu stai streamando però per da spettatore, non giochi ah esatto, no, in come va con la pandemia ha detto come mai non streama qualcuno altro in questo senso come edy, nuovo edy, li puoi pure fare la telecronega esatto, cosa a questo punto qua un pochetto si vede sei avviato così adesso un po' hai provato a cercare qualcosa su internet mi sembra strano perché dovresti streamare con la 970 tranquillo secondo me la filaggiava molto per il discorso bitthread ma il gioco l'hai capato? eh dovresti mi so prova a capparlo pure e quando vai su schermo metti bsync e metti uno magari quando, solo quando stai streamando devi mettere un frame perché ho visto che quando scorreva poi in partita metti uno, si, che ti sincronizza i cosi con quelli dello schermo ma quanto c'era lo schermo? a sessanta, a sessanta, a sessanta, a sessanta a sessanta, e allora si metterà uno quando questa cosa si, perché eviti, diciamo, perché magari ci sono fasi in cui va a 40 e fasi in cui va a 120 faccio un esempio quindi per evitare questo sbalzo di solito di solito quanti FPS di fa il coso gioco ah poi direi che lui gioca a 4 però Luca, perché ha 2 giga e 4 occupato ma perché massimo con la 970 fa 140 ma lui già ha 2 giga e mezzo occupato ho visto quindi gioca con le textura ad alto probabilmente è, qualcosa non vale ah allora ho maggior ragione ora guarda che va meglio c**o lu guardatela pure tu mandami il link secondo me va meglio adesso allora puoi fare una cosa puoi fare una cosa sicuramente era pure quello a questo punto a questo punto perché se stai streamando con la scheda video così la pesa antica di meno con il gioco per adesso sto streamando col processore ah col processore no io faccio cambiare perché gli laggava ancora perché avendo il 260 hit potrebbe tranquillamente sfumare col processore pure ora io ti io ti dico direi e intanto quando streami il v-sync lascia la fine hai 13 di ping ah comunque va bene ma già li stai castando eh è già castando castando eh ma già li stai castando sii poi un'altra cosa visto che abbiamo capito più o meno il discorso del che è il eh direi il il discorso del v-sync vi direi di riprovare appena puoi magari non aumentare un po' il bitrate a streamare con la scheda video e magari aumentare pure il bitrate perché il fatto che tu nel e il fatto che tu nelle scene concitate possa vedere il granato è pure dovuto a questo no 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 te lo dico lo dico lo dico tranquillamente 3.500 3.000 metti 3.000 e secondo me dovresti riuscire tranquillamente perché adesso è molto 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 più più stabile lineare è tutto sì 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 ti dico se tu vuoi se tu vuoi vuoi ti dico fallo così nel senso prova a streamare con la scheda video eh prova a streamare con la scheda video mettendo alzando un po' il bitrate va bene mi raccomando arriva bene ok ci vediamo dopo andrea va bello ciò fanno giocando in qua oh sergio e cristo dio le madonne a loro eh che cazzo andiamo vabbè vabbè andando sopra andando sotto no andiamo che ci andiamo sopra dai sopra 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 è un attimo sta facendo il consiglio sotto con bruce ho capito però a me non me ne frega un cazzo se c'è da giocare c'è da giocare ma consiglio meno non me ne sbattere a minchie io ho detto cosa stava facendo no infatti non è che me la piglio con te olè no ma davano attaccato prima ma prima abbiamo vinto ho attaccato kitchen e mi hanno spaccato la sotto poi sono saliti white e penso hanno attaccato torre o sbaglio torre mi sa di no che sa che se ne è andato vedo le ma me l'hanno attaccato tutti da kids cioè scusami kitchen e white e c'è la bufina e sono le fanno ok si provo meno adorti una mano non sarebbe male anche se il back ci penserà due volte sto gi si ma se mi spara non boh ti lascio altro drone su white spettacolo sulle camere esterne è down eh? no non è vero per i main si vengono da main vengono da main arrivo sul drone hanno preso già kitchen fatto un drone hanno preso kitchen master master leggi fuori master chiamami se spaccano bro dark no da sotto soffia down da sopra kitchen ok quale hai fatto ad uccidere con la smoke? no con la vertical ok bravo dark nessuno armory in due rampinati master in due rampinati master chi c'è morto? c'è il main class non morto chi era? uno è fuori porta e ha ucciso di edge uno in due fuori master assacerato assacerato finestrone finestrone ragazzo il drone calmi occhio ecco finestrone brisciano me ehm master generatore si hello ferma giù no no white ancora pulito ha brisciato e se n'è andato eh è bisogno del drone smocco mi sa white eh è la lesion dark sotto white scade bene alle dinte delle scale sposto il drone sposto il drone sposto il drone è sri del master è entrato in master mi sa bene la lesion sulla brezza aspetta aspetta dark ma la carica mart uno metti la lesion se lo appreccio forse è il master uno white white sirs ti aiuto ti aiuto dentro master non sarà ancora white fuori master uno maybe uno dentro master mi sa o su stanzi tu mi sa sto tenendo il pick della porta io è qui è qui è qui hai rotto la lesion eh dark main com'è? no idea main 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 dietro la sarge col microfono che non posso parlare main 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 ma ma sti cassi e sulle bag uno lo guantappato buonissimo oddio caro madonna la zofia nella vertical sono bisogno che sono bisogno che ho venito d'archeric via zofia down e dopo un po' è arrivata la morta a me è arrivata giusta a me no ragazzi ma se gioco di pompa con eco se vuoi gioca stretto va bene eh minchia più stretto del culo di mia nonna si vabbè anche perché la metalletti c'è con l'aria ce l'hai quindi eh infatti ha un po' di culo strano no 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 la su sarei meglio di quella di smoke si attaccano strano come c'è? come li difendiamo? attaccano disordinati questi qua ragazzi classico attacco questi non dronano aggressivi ma questi attaccano disordinati hanno attaccato finestrone poi hanno attaccato dietro hanno attaccato pure i kids quindi se attaccano disordinati state vicini raga non disperdetevi tanto perchè questi non sai da dove arrivano ehm il problema è quando muore Sarge ehm il problema sai qual'è? è che Sarge l'ha pusciato finestrone solo che io prendere frag non sapevo che era dentro pensavo che era fuori ho detto che mi vado a piccare inutilmente perchè? perchè sta giocando uno in meno non ho preso la shotgun non è spottato? non vedo nessun drone non vedo nessun drone dovemmo cambiare strat comunque boys ce ne serve un'altra ok allora il mio problema ragazzi mi tirano le nade qua ci muoio lei c'ha un aspetto con difesa meeting ma non ci piace la devo spostar fai rotation quando puoi da non so se andare in torre forse dietro arrivo ti dico subito non c'è nessuno non c'è nessuno no no non c'è nessuno no no non c'è nessuno però ragazzi niente dietro la no no vuoi bingare garage 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 arrivo col drone ragazzi copimi da no kitchen fai il buco basso torri di drone ok stop non passa non passa garage kitchen sono state le main eccomi dai una mano arrivo lo drone arrivo arrivo no ma hanno fatto il drone erano già lì entro capitato down sono in kitchen i miei lobby anche siamo lì i miei lobby sono due mi hanno dronato ho fatto il drone ho chiedito dietro fanta si main main il pionerotolo il pionerotolo dimmi quando briccia bottola ok no ma hanno fatto il drone niente plant per adesso ha bricciato bottola dark no ok ok chiamami quando bricciano che ce ne sono due ce ne sono due poi push il terzo il terzo sarà kitchen uno è nell'angolino a destra uno forse meeting l'altro è molto close meeting è corto uno è fanta è steso è steso va bene down oh no è tasto ma cazzo è finita è finita è finita no cazzo è down ma cazzo ma cazzo è down trozzo di merda è finita ho detto secondo te ma non capivo ma che ne so mi dici è finita io pensavo io pensavo come dire dai è vinta uno v4 ma dolo ho visto prima pauroso minchia che bello dark è l'ultimo posso prendere così stavo andando a kitchen o tu rinforzi meeting avrei sapere la cosa divertente toucher non si è mai mosso da classroom per prendere le gambe kill vabbè ha fatto bene è stato un minuto lì in classroom sicuro comunque era che pensavo fossero smarth questi mi sa che sono mi sa che sono main credo no 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 non credo ma fa ad avere 1.4 col main e 2.2 vitore sconfitte questo è smarth bug ma sono tutti smarth cioè non secondo me ma boizino ah ok eh infatti magari sono solo per hezle wow no le pone da guard vada difendi eh ti metto io ce ne servono due cosa? ti servono due ds o solo uno? mmm uno ok per il quarto round il drone non lo porta mi caro puoi darci eh? e invece? ti dovrei fare dei buchi per guardare il push da kitchen cioè noi siamo sopra e lo guardiamo da sopra ok e poi faccio dei debbucare ma ce l'avete tutti i rinforzi ragazzi? vabbè quanto offre vabbè 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 ma guarda tanto se mi fa carica di thermals gli spaghi contro è meglio bucarlo che rinforzarlo ma dai io non lo metto ok attaccano nel dodge direi e direi di si ok la cam di torre ok spade c'ho la cam c'ho la postura di porta dining ti tengo il drone in dodge no e logic eh sì te ne dino ma vai 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 in un Voice che adversary arriva il drone scale white vabbè ti dico vabbè ti dico di quanto andare eh non c'è nessuno davanti C'è un drone dietro a destra, smoke, è uscito, è uscito fuori Guardati la cams, guardala tu Poi tra poco mi serve una mano, ma, eh Arriva, arriva Quanta, c'è il pompa? Eccolo, se vuoi facciamo la doppia uscita Ok, ne ho detto via Dimmi tu quando Possiamo, possiamo, dai Pronto? Quando esco io, te lo dico io, lì, eh Vai, 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 vai Quarto glaz, ho ucciso qualcun altro Ne ho uno io Te lo chiamo io sentra, è ancora rampinato Ok, perfetto Fanta, glielo guardo, dai, Fanta Non picarica Non è più rappellato, però è lì vicino Main nessuno Sopra nessuno Poi è il primo Poi è il primo Poi è il primo Poi è il primo Scalè Uno porta kitchen Come è porta kitchen? Sì, porta kitchen Ma sono io È un'altra piccola È Dunning Un'altra piccola L'altro poi è Dunning Ha tacerato Non mi ha preso il drone Non mi ha preso il drone Eh, mi ha tacerato il drone Posso spostarti il drone? È smoke tanto su tutti e due lì Vai Eh, no, no, è smoke, è sdraiato Too late Eh, non so No, venga È piccola È sdraiato È sdraiato È sdraiato? È attacerato di nuovo È ancora lì È ancora lì È uscito, eh È uscito Corridore Nice L'altro è Dunning, Dunning Hai visto? Ah, vai Pusciato in due In due Nice job Bravo Oh, scoppata Uh La defica Ma non lo fai Scusate, ma quanti cini stavano là fuori? Ah, ma perché stavano tre? E lo scanno da uno Oh Ma che cazzo ho fatto? Ti giuro, ho sbagliato Non volevo dire, ma ti giuro No, non so perché Scrivete, non volevo sparare Scrivete, non volevo sparare Scrivete, non volevo sparare Scrivete, non ho spavuto Questo sembra Se mi metto Ma che c'è quello che c'è quello che non fanno sparare la stessa persona Mi ha beato subito al glazzi, è l'unico che mi vedevo Allora, eh, io pure, quindi io ci sono dietro l'hazzo Arrivo, ah, è stato di finito il match, arrivo Ah, hai presente il corner della porta di Dining? Io quello ho preso. Ah, no, io ho chiuso un altro che stava correndo. Ah, no, io ho chiuso uno che era dietro al corner di Dining. Eh, Glazer era quello che stava correndo. Ah, ok, allora ho chiuso. E Toucher era sotto le finestre di Giz. Angelo, si sia il pick. Tempo di farlo. Oh, prendo IQ, ragazzi. Stark... Prendo IQ? E hanno... Oh, ok. Defuser! Defuser! Eh... Last second. Team Killato dal proprio nipote, che schifo. Dai Fanta sta due tre, non sta due volte. Vabbè, ragazzi, c'è da dire, non guardatemi le kill. Sono malato e sto giocando su un po', non mi rompete, coglione. Vabbè, ma Fanta è il più forte. Ma che co... Eh, grazie, ti ho appena detto, Sarge. Ma come Sarge? Ma guarda che non sta parlando in game. Sì, sì, lo sento io in game. Voi, guardate sopra, guardate sopra. Che faccio io? Vedo noi sopra. Quanta torre piccola. Togli il cazzo, però, dai. Valkyrie era andata a meeting, eh. Ha chiuso meeting, quindi vuol dire che... Quanta rispona con lui. Io mi prendo torre alta. Quanta rispona con lui, torre piccola. Legion ha chiuso di nuovo meeting. Va main, Legion. Togli il cazzo è andata a meeting. Di dirgli che io vado torre alta. E explo torre alta, va, eh. Quanta, diventa torre piccola. Eh, clear. Eh, non lo so. Sì, te l'ho detto già. Te l'ho detto, te l'ho detto già. Tutto so... Piano sopra è clear. Sopra clear. Tutto è clear, tutto è clear, top. Sto tenendo Sto tenendo Tutto clear il top Tutto clear il top E' clear il top Ce n'è uno in teoreal No No probabilmente tengono meeting Ecco mi la farò te Per favore qua in granaio Ho fatto un drone di eco Aspetta mo la faccio dall'altra parte Un attimo Eh diveni la fare anche di qua Ma droni però Ragazzi non hanno più un drone di eco Ti devo tornare il granaio Eh perché non posso aprire Tu lo torno io Vuoi che spacco sarge E' clear il granaio vai Meeting Meeting 1 Mi serve una taccherata raga Jager palco di meeting Mi serve Jager palco di meeting Taccher taccher Non lo vengo a tirare Tirato il taccher Ho tiso Valk e Jager Ce l'ha lì Siamo pure l'altro Guardi l'ho tirato C'è uno da me da me Venga scale La mano Fanta Chi è Zopia? Io Scali basse Scali basse Vieni prepara qui Aspetta Scali main Scali main Aspetta Fanta che ho droni Scali main Sarge No me l'ha fatto Fanta Me l'ha fatto Ok era qua sotto Fanta Aspetta Sto dronando Fanta E' lì nell'angolo Nell'angolo Va via Wait Fanta Vabbè Fanta vai Closet Metti clamor Ok perfetto IQ Closet Eh ma infatti sta radunisci Eh infatti E' uno a corridoio Ma metto qua la clamor C'è c'è la clamor Vado per il plant Occhio ecco Vabbè ti ho taccherato Vabbè ti ho taccherato Sai ti fai taccher Eh vai dai C'è uno Oprite Bovius Cora dite lo scuro Dite lo scuro Fatto la blecai Fatto ecco io Mira Vale Il vidi bello Sant'altro Ma nani WTF Gaspira avevano messo una black eye penosa ragazzi main pure l'ecom cioè no no li ho fatti tutti la prossima mappa e costa ii abbiamo distruggono vince coglione ci sei stuprato vedete che si annulla raga il tempo del bar del trick perché entrambi e se uno che confermano il tempo si resette quindi capire quindi lo sai se hanno triccato è capito questo è quello che dico io conviene triccare alla fine infatti se non è come primo capito se tricchi alla fine loro non lo sanno lo sanno perché comunque perché tanto stava già finendo il tempo perciò non lo so ok 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 vado sempre per le altre io vado sempre per le altre io vado sempre per le altre io e che io cambia spot aspetta a pushare è close vai lì aspetta io aspetto che faccio i droni ma vuole che mi sa che c'è gente sopra a sto giro eh da me? no ah ok ho capito dove si io prendo un attimo master e dark midrone e poi andiamo poi andiamo vengo da te sta avanzando ma stanno su colpi a caso aspetta te per aprire bro ma starò ok ho preso doveva a posto sopra tutto ho preso due altre sopra clear con Hector com'è sono tra noi c'è un altro uno morto c'è un altro bancone scende è andato la yeather guardate scale main raga non devono salire sto stando scale main tiene anche sargio scale main sale dimmi fanta clamor quando vuoi subito dark ho taccherato vedi se puoi presciare ovvio ah metti clamor fermi ok dietro vengo a presciare corner mira corner corner di rotation c'è avete gli angoli avete gli angoli arrivo 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 guardate nei portamenti ok raga ho un maestro qua ho un maestro qua ho fatto droni diego dico ho fatto droni dico ho fatto droni tengo il back eh ma ha fatto raga d'accordo dai no è dentro bomba è dentro bomba boys è nell'angolo lavatrice angolo lavatrice chi ti esplode chi va? altro plant un metro da me è lui cantiere cantiere no era dietro sei solo eh? no 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 mi ero troppato già da prima comunque dietro lo scudo c'è ho visto ma non l'ho visto era dietro bani era sdraiato ma non perché ho incontrato ma non c'era eh sì ah la grazie ok targe ma non è ancora finito dai vieni in tss ma cazzo è il nome della roba mi sa che dovevo levare devo smettere di plantare poi il maestro eh no ma lì percogliatate ok raga droniamo il site prima di volontare eh esatto eh sì fate così ma quando quando rimaniamo con pochi se qualcuno mi drona il back io mi droppo e so già dove sono gli distruggo come hanno fatto loro prima che si sono droppati alla fine non se l'aspettano però vorrei sapere dove sono ma lì guarda che è una questione di dopo ci sta anche ma no 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 però fidati era vinto non sapevo il maestro pensavo che fosse non l'ho sentito bene nell'anticamera di del site invece era proprio dietro capito nel ora perché se non l'avrei ammazzato aspetto sarà stanzino cioè oppure io pensavo fosse no non ho ne idea si voleva salvare per per potervi fare col maestro secondo me è infatti eravamo in cinque vive io ho detto lo buscio perché non so no 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 ma è un coglione ma è un coglione ma è un coglione ma è un coglione era uno eh vabbè l'ho fatto perchè non so quanto vuole però eh serbino lo fa con me 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 ora dove vanno top no? vanno sanno già top appena senti la breccia finirei facciamo lo switch mi ritornate mia armory che la prendo mi rampello io armory bro ok vado molto io prendo ma sai che faccio mi metto sulla finestra che corrido ti ha messo dai tu hai ti cazzo ti cazzo prendi garage sargent da dove non c'è prendito in garage hai te tre tre in kitchen eh maestro come ti armadito come armory vado armory cazzo e' uno forse no e' clear raga tengono kitchen forte quindi con le vertical dai che faccio per esempio un bel top dai che faccio un bel top regani hanno i venti sotto devo andare alle varie classi da classi hanno lo scudo e fanno i pixel pic togli lo scudo Fanta aspetta aspetta lancia l'altro maestro white leggi mi tieni un secondo no ha noi leggi me lo tieni un secondo Chi sei tu? Chi sei? Vai vai te lo tengo io vai Fatti Berit Tu vuoi brecciare Va a te, fa una cosa Vieni Qualcuno sta tenendo me in si? Ecco devo stare attento da meeting non posso Ficca così Breccio Fai a cambio Fai a cambio con Sarge Sarge quando vuoi A quanto avanzo Vai 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 Quanto c'hai io Quanto ha stun? Sì Tutti 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 Sto andando dark vai Let's go Trono site Ecco io mi riesci ad andare Su finestra white per dietro Oh ha sdaiato porca Rotation rotation di white Ah vado attento aspetta 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 Drone dieco in main Vasco alle main Drone dieco Non scendo giù È andato garage Non è white ragazzi Non te lo posso togliere Vabbè sto drone dieco Fate il drone dieco Morto jäger Ho chiuso jäger Quello white non ve lo posso togliere Divino a plantare davanti il letto Aspetta arrivo di coppia Ma c'è quello white Lo non posso Morto white Guarda che c'è un nivelai qua ragazzi Va levata questo Morto white Sto in sight Che push ho fatto Ma con white ho distrutto 13 kg Non ti fai schifo Grande grande Ho pushato quello white Stava lì fermo Ma ti aspetta anche qua il plant Mamma io è dark Ah ancora un altro round Sì Siamo 6-3 Ma li proveranno sopra Quando vanno sopra La massimo kitchen Ti avrete tenere da sdraiato il pick Perché se con BB almeno hai meno area Ah ma cazzo Quello white lo possiamo togliere dal rappelato kids eh Eh te l'ho detto già di andare Eh ma tu mi hai detto vai finestra white mi hai detto Eh sono andato Eh ho sbagliato Se vai da finestra kids non spaccare e poi sparare Sparare direttamente Ah ho detto vai finestra per white Forse ho sbagliato a dire Vabbè non volevo dire vai finestra No sul tetto a tenere finestra white però Ho deciso di pusharlo L'importante è che l'hai levato poi come l'hai fatto non mi interessa Attacters need to locate and defuse as many bombs as they can A parte che Duff tu sai che hai perso sanzino con la campo di maestro No C'era una campo di maestro il sanzino L'helt is true DG Lui non l'ha usata Oh un head Oh un frano non ho capito Ma perchè la campo di maestro che c'è I compagni non guardano le camera ma guardano i loro compagni di guardia Quando ho pushato white c'era la campo di maestro davanti a me ma era spenta Prima prima era spenta Eh ma è una tattica Lui ha brecciato Quale è la timing? Tattica Ma sono su? Yeppa Ok stessi stradmini Sound resumed Apple adesso vai finestra di kid ok? Vai kitchen e vai nel garage No no adesso come round No no adesso come round Dove? Eh però mi serve la Kremor Dining Perché se come mi esco Ok spawn kill Dove? Dove? Credo bianche o 12 Trovate armory Trovate armory Trovate armory Trovano armory Madonna mi escono mi fanno spawn kill Di sicuro tengo io le finestre uno di fronte armory in porta non è armory è nell'angolo è nell'angolo destra angolo destra ho preso io apro i tuoi bush vieni vieni preso sullo shield sullo shield toucher mi droni da sotto allora classroom direi che puoi entrare c'è il drone di eco su scale vai 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 ho ne class un occhio ho sbagliato fatti bandit ok vado a brezzare ho failato il drone di eco potevo fare tengo dolce aspetta dark aspetta non pressione ancora mettere la climber aspetta vai brezzo posso andare finestrone o volete andare voi cambia 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 sarge sto tenendo white io eh vado finestrone c'è uno che risale non lo tengo più white devo andare a provarmi kids vado io finestrone torno site vai vai kids sto tornando site eh ma mi serve con il nether no nether non so dove è zoffia io setta io sono pronto white 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 è uno kids quanto quanto grazie bello eh non se l'aspettavo era etchol abbiamo trovato sì sì è qua non lo voglio nemmeno sentire non lo voglio non lo muto ragazzi giuro mo che entro lo muto è già qua stai praticamente vedete come arrivava insufficiente permissime ma quando lo vedi tu bandit da white no no perché era dentro è subpenerotto non posso vedere e poi mi ha pushato eh perché mi ha pushato e stavo andando al plant solo che l'ho preferito eh ho vittato di picca ancora perché ce n'era uno su chi no 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 beh tranquillo tranquillo ho dato tempismo vabbè buono bella comunque lì ragazzi gli ho rotto il castle da dietro non si è girato cioè io non lo so ecco ecco quando ericolo sledge e stai rompendo il castle mi sono ricordato la scena del pompa io volevo avere il pompa per fare quel fight sappiamo voglio la castata con lo smoke sotto madonna ma bellissimo io un po' sta line come si vede dark è il mio preferito ragazzi basta star aggressive lì ogni tanto serve povera te lo voglio che serve perché non se lo aspettano capito dicono ma questi mica sono così sceme invece giusto giusto vabbè vedono dark poi dicono abba dica no ma questo qua ma che cosa ti vogliamo bene dark sì sì anch'io ragazzi quanti anni hai dark non per farmi cazzito ha detto andiamo in game 25 non vuol dire andiamo in game non vuol dire se lo vede non vuol dire ma tu da parlare in game non vi piace sei alto 1,96 no dicevo io ma che cazzo 22 eh per 30 cm di minchia che cazzo madonna così puoi andare d'accordo con la sorella di explo guardate già in game voi oh un min Diego che ne ha detto che ne ha detto ragazzi la febbre sta aumentando ma che cazzo ho fatto regà regà ma dobbiamo andare in game non ho capito no ok ti ho detto parla in game mi ho detto allora lui ho detto allora difesa di nuovo parliamo in game tutti quanti a sto punto è inutile che parliamo in tess e poi almeno io devo prendere un tasso per parlare con lui l'hai visto lo sfondo di doc mamma che bello è bellissimo vabbè quindi io ve lo passo ce l'ho ma scusa volta che flu io penso in game sia meglio quando domani vedrai che sarà già passata a me fa sembra così quindi mica vede che fa volete andare se si aspetta aspetta ecco lo aspetta oggi sto morto di treno manca andare a lavorarci se andà si passa vai andiamo non l'ho passata vai andiamo ma io mi sa che ce l'ho si preoccupa con la poveretta la settimana prossima ce l'ho gli esami gamezone gayzone io non ce l'ho andate su rank 1 io non ce l'ho bro ho passato dischi gmz solo si gmz entra allora la mamma di ex user disconnected from your channel user joined your channel pronti per stare anche salve a tu ma si vedi se sei mutato d'altra parte si vabbè ma io dico che mi sei staccato il microfono di che io sarge stanna fa una chiacchiera assurda no 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 che è stata gamezone ma state finito vai no ho capito non rompi i coglioni vai vai gioca venga manca uno manca uno manca dark channel connect ai grandi poteri sarge per una grande rottura del cazzo esatto bravo vedi lo trovo connect comunque chi era quello là fuori da ehm armory che teneva armory da fuori dark no sicuro bravo dico dei nemici abbo cioè fa per wallbangarmi continua a sparare completamente alla cazzo di cane quindi mongoloide lo vedo da dove arrivano i proiettili quello finito tutto il caricatore io sono uscito un attimo un colpo gli ho sparato e morti beh ma manca dark ah che è entrato c'è 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 si vede il mio push su white si vede andrea 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 l'ultima kill su e headshot prima era la kill cam era headshot che all'inizio quando si è abbassato io gli ho fliccato la testa non me l'ha data forse gli avrò preso il contorno di sopra della testa perché è strano si guarda a un certo punto mi ha fatto il clutch pick cambiano tss smoothing sarge no vuole far il manager raga lo pochiamo tutti quanti e l'ha detto non è che sarge è vero si sta facendo i casi sull'un altro tss infatti si è smootato ragazzi lo pochiamo tutti quanti dai 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 non è troppo difficile dove hai fatto la stream hai visto quando si è abbassato non ce l'ho la stream mandami il ma perché non c'è mi dà fastidio ogni volta fa sta cosa va bene che è morto ma fosse stato più competente ci crepavo io fa incazzare sta cosa ma perché non c'è mi dà fastidio ogni volta fa sta cosa va bene che è morto ma fosse stato più competente ci crepavo io fa incazzare che doppia pure secondo me qua voglio fare di fronte mille lo so lo so lo so vera headshot vera headshot si oh cazzo devo pigliare le strut iniziamo attacco con l'hazwire ah si siamo attacco è via con l'hazwire è il mostro raga andate a fare in culo lo caricate aia si sono arrabbiati per sarge abbanniamo ash no abbanniamo ci volete ying piut no ying ok dai no no ying non la usano queste la sicurezza magari non abbanniamo i glad ma in attacco non ho stato niente questi di particolare cioè già calma comunque ragazzi per per noi uno che usa il glass secondo me ci vorrebbe ma lo usa io lo uso bene cioè mi piace è troppo cancro bro non è possibile mi piace abbiamo spade non poi soprattutto i droni di eco che non sanno dove planti ma si ma in attacco ti posso sa tutti posso fare pure bb cioè anche se lo usa sarge quindi purtroppo non posso usare glad perché poi mi lagga il gioco cosa vuol dire se picco mentre sa la smoke mi faccio 40 fps è un problemino ex lo mi sa non è normale cioè se la usano contro di te la smoke non ho capito no no se la usano contro di me solo se guardi tu solo se io uso glad sto dentro la visione termica boh è strano però bro e la visione termica mi lagga non so perché ok bro e si asfaltiamoli asfaltiamoli si sa che non dronano quindi ah ragazzi se sta in acquario ci sta in un luca planta acquario ok bro poi vado io mi rappello io finiscono toucher toucher prendo io prendo io prendo io ma se prendere tricco io scusa se prende Q e Spade prende prende Dio ma ti prende Zofio meglio Zofio ma era meglio tanto sale devi triccare prende Q le hanno pannate Svegliate madonna ti vogliamo bene uguale tanto per come le mettono le cave di Valk non c'è bisogno sarà la febbre che parla ma ti voglio bene raga c'hanno Valk e eco e eco non vengono con lo smoke eh perché non ne progete Q che bannate quindi sono sono penthouse bene ok allora chi c'è sono sanno chi c'è come vuoi attaccare prendete penthouse ok prendete penthouse fate i buchi sopra con sledge e andiamo a planta finestra porta porta service dimmi bro dimmi subito una domanda ecco aprimi bot una domanda eh si è sbagliato aprimi bot c'ho un drone sul porta uca se ci lampiniamo vinto a casa l'hanno chiuso un sacco entrate da botola entrate da botola e da finestra sì sì io vado finestra uno vado da botola vado io botola come vuoi ce l'apro io ma non c'è nessuno oltro aspetta spara metto che non porta meno ok occhio dara che aiuta sopra gli altri non consumare due sì sì vai spacca oh c'è qualcuno nei chitarre c'è legion 7 7 bro vai vai ce l'hai è in vip spent house ok venga spent house per noi per noi per noi calmo calmo sono rampinato aspetta è in theater è in theater è in theater è in theater dietro l'inporto aspetta che lo trovo aspetta che lo trovo sto tenendo la porta non esce da qua è a sinistra porta sinistra porta legge la città sulla porta che rimbalza ok la detiene vip è dato la jager ottimo vai termet andiamo sotto in tanti ti tieni i flank sono in tre loro sono in tre loro le more theater vai vai c'è la rotation ah e allora puoi tenere i flank apri tutto c'è la service dark tira il flash tira il flash no no dietro la scrivania e l'ho finita l'ho finita beh smugga david hatcher f*** you mario passo passo io aspetta valkyrie morta bella ragazzi c'ho la rotation andate a progetta dronate ragazzi dronate dronate qualcuno droni bagna è clear main facendo le main vai dia vai vai push inside push inside e da me explo scusa non l'ho fatta forse bravi raga bravi 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 eh cioè t'ho ucciso per il lag cioè non l'ho fatta forse explo e quando deve quando deve pigliare a me mi wand up quando devi pigliare gli avversari oh ti ucciso per il lag rag sì 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 non eri davanti a me poi ti sei tra l'ho scusa ah capito ora sono io che mi teletrasporto vai a cagare vai ho troppa fame di di frag ma di minchia ce la fa prendi capitau spate subito no no perché venti che vanno sopra oh ci stanno sopra che volete vedi quant' war fammi un tentativo differente e stanno sopra l'ancione da finestrone non mi preoccupate sì è una tattica di merda sappilo che adesso ci va di culo ma tranquillo filati filati comunque se noi arrivano no vabbè adesso stiamo cazzeggiando però raga veramente qua ci vuole il toucher se vanno sopra confer non puoi andare sotto come attacchiamo come attacchiamo no taccio se loro vincono lì basta però come vogliamo attaccare aspetta sta fantasmaggine kitchen kitchen ah e allora qual è il problema è che si stavano sopra come prima no dacca se vuoi provare si attacco qua magari si deve perciare i vip noi mandi una giocca sotto fai pressione i vip cioè noi li lasciamo a muovere dobbiamo fare come prima che stai stratifando queste qua raga io c'ho un drone in vip quindi boh io c'ho il drone in main fanta ok qua sto rinforzando park mette cammini pure i main o in main no in main uno è verso ocran no è salita è salita blu vai come prima io prendo i main però sto giro cordo io vip uno ragazzi cordo io vip cast moto per quanto glielo apro no 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 apri non apri perché no perché no e gli vuol ben go theater vabbè apri ho la rotation sono la che theater master come sono ho la rotation di theater bagno clear di terra ok entro bagno attico ok dov'è a theater non lo so ma fate il drone no serge da dove entrate bagno raga pusho di bagno clear ho capito ma dillo prima che pusho e l'ho detto lì sono in theater divanetto non posso non scendere pusho bagno pusho bagno 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 andiamo dammi dammi il lobby dammi il lobby io sono in mei lobby ma dove ti ha fatto scusami ma rientra giro bagno e poi ti copro scale main lancia una raid in bagno che rimbalza supporto dai ti copro main sarres c'è una cam è andato il legion c'è un'altra tengo sarres c4 è andata c'è un'altra c'è un'altra capitale sono in bagno io uno in pacchi jäger su rotation aspettate raga con calma con calma oh jäger dietro bomba jäger non l'ho visto passare blu morto dietro bomba jäger raga kitchen è clear kitchen è clear cambia tutto aspetta aspetta il drone il drone kitchen liver kitchen posso entrare sarge tenimi il drone qualcuno che è morto sto andando io sto guardando io no c'è il drone dentro c'è il drone dentro site dronato lo sto guardando c'è uno dietro l'angolo dietro il corner quale corner è quella di cordoyalba e impacchi è dietro la bomba è dietro la bomba è sbagliato dai è sbagliato coprimi è dietro la bomba finca bella bravo non era pacchia non è l'explo mamma non volevo stare l'alzato perché c'era pure che mi tenesse ma infatti ha fatto benissimo ma devi capire la porta di service che cazzo è service bro ingresso è ingresso sicuro dove ci hai implantato prima c'era Jager che te ne va da là apritela era aperta eh no era chiuso era chiuso aveva due colpi era mezza aperta e mezza chiuso ok basta me lo diceva riprendi toucher madonna che culo che cazzo mi hai smirato ma occhio è che cesare se non riesce comunque ci ho rischiato troppo su su theater io push se fanno ancora così non pushare ah beh nel caso tanta te vai dal lettone matrimoniale lettone matrimoniale io vado a brecciargli il muro da dove il muro? il muro che dove lui li ha nicchiato vado col termite glielo breccio e lui per forza vorrà uscire ma non c'era nemmeno rinforzo no no era rinforzato il muro dove stava dietro lui è rinforzato si dove stava al valchiri non stava a dice li vado anche solo a fare il take ok perfetto allora io vado in uca in questo caso push non andare da solo no no explodronami lo dronami no no un dronare per vip te lo per vip mi dronare explame ok che ti dronare uca non dronare solo uca poi tengo uca e prendete il corridoio guardate guardate se c'è il più sotto se ho io il dronare in caccia in pacche ok e non vedo boost vedo mute sento mute però uca clear guarda lì anche fuori uca però scale e tutto il resto scale clear arriva uno corridoio no è andato in vip vai 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 vip ci penso io ora vai vip con gli altri trovano vip non è quello vip legge di apri botta arrivo raga mi rappello finistrone vip iberia clear vip e clear in se o quando brici dimmelo che ti tengo finistrone entro vip easy plant aperto guarda sono su un criccione charge no cazzo raga no vip non è clear ma perché ti sei buttato ma cazzo vip clear bagno aspetta cazzo che è il dronare oh dar è mio lo yeager l'ha visto eh vip avete preso si entra drone entra drone vip uno ancora in bagno come cazzo dei buchini bello c'è il mute touch e la dischi ah no ok niente fatto fatto drone di e solo yeager in corridoio mi copri un attimo da corridoio ce l'abbiamo ecco è letto è letto uno aspetta un attimo che porto un drone indietro corridoio ce l'abbiamo ecco i droni è una cava di messa in corridoio riesce ad andare a finestrone per il plant tanto io c'è uno drone di e guadita a cerare calma uno lo sente qua non lo scelai è sceso lo ha fatto riesci a donare uno dietro l'etplo lo sento uno dietro l'etplo è qua è qua è qua porta vip porta vip ora graucciato vip armadio morto ecco solo un insight solo un insight flank chitarre flank chitarre flank chitarre flank chitarre eh la firma avevo visto la gamma no pensavo che non sbagliato guardate i droni come fa sta quello in vip cioè è una cosa assurda che quello sta in vip no poi ho guardato fino all'ultimo le scale ho guardato acquario per davvero la mano per tenere corridoio e c'era quello scale appena ho smesso le drone no metti la clamor lì se l'hai eh merda eh quella è merda ho smesso le drone in quel momento è merda mi sa che quello in vip è arrivato dopo eh è passato da dischi eh certo che è passato da dischi porca troi eh però uno bisogna che tenga la porta eh raga ma quando uno drona cioè state al passo col drone se uno vi chiama clear entrate cioè se aspettate è ovvio che poi la regredono che quello dischi è passato mentre duck dronava tutto il tempo cioè come so ma quando sono arrivato io la porta dischi era ancora chiusa raga cazzole è in alba è in blu quindi stanno stanno bar sono giccio ok infatti è arrivato oh minchia cazzole è in blu e ha fatto una rotation ma si ma le fa sempre e ha fatto questo strat tre volte che non ha funzionato ma è più che altro che nessuno attacca dalla dietro come prima prendiamo sopra giusto però non cambiamo difesa noi cambiamo attacco ok 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 andiamo al plan service c'è l'idea è raga dopo se guardiamo e vediamo che ancora non difendono chi sa termite termite non l'ho preso vip install allora io drone vip se tu entri eh sì ma attenzione un attimo da oca vip è clear chitarra ok bagno guardatemi bagno se no non entro vip è ok bagno clear bagno clear penthouse ok penthouse è clear forse theater non l'ho do theater pantastanna no theater è clear prendetela subito no 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 c'è ne uno è clear uno è un phone uno è un phone theater è su pic non evito non evito touch è ancora là ancora là un po' usci dai forza non l'ho ancora morto 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 messo ho sbagliato io ex possiamo ad avere i slack ok non ce l'ho un drone non ho un drone aspetta un attimo aspetta un attimo serge aspetta e prova a fare i buchi no chi è morto guarda guarda vedo come è la situazione nel vip ce l'avete il black no no ce li sono i jambi ci sono i jambi vaffanculo vip ce l'avete il drone no serge un drone dietro oh uno dietro sarco ma che è sto faccio black main ce l'ho io come ho casato guarda non ci sono i jambi non ci sono i jambi forse i barilli forse i barilli 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 ho due di vita vai vai capitano vai 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 vado devi andare non è in bagno è tutto a sinistra a barilli barilli arriva il drone dietro a poco il drone il drone il drone bello guardo porta a bagno raga non può uccidere main ce l'abbiamo noi è main quadrato te lo chiamo io porta a bagno aspetta ti dico io quando picca uno due tre porta a bagno è in bagno ma che senti in realtà no è in bagno ancora in bagno ah sento che si è cruciato ma ce l'ha fa non ce l'ha fa è nato i privati basta dimmi anche la posizione in cui è dimmi anche se è cruciato o steso o alzato così vedo dove mirare potevate giocarlo un po' più safe quando l'avete visto in me comunque io avevo un angolo pauroso non sono fatto a farmi intanto forse ci avevano il drone ci avevano il drone forse i droni dietro erano finiti bro ti metti sono lo so non era in main non era in main però non ti vedono da main quindi non ha nemmeno so ma hai visto come lo ha fatto? ti sta prendendo per il culo forse e che prendo io? no no ho fatto un pick assurdo ragazzi non potete capire era millimetrico e poi ho fatto il QED cioè nel senso ho un one tap e poi mi sono spostato col pick quindi non so come aveva fatto a prendere è lungo è lungo è lungo comunque è lungo è lungo è lungo è lungo è lungo ho dovuto parla mi stanno rompendo altamente le palle ma è perso questo round no abbiamo vinto ho visto che difusava ho capito abbiamo vinto ragazzi ma comunque sono non l'avevo tempo è rimasto è rimasto di merda comunque è pauroso fanno Uca 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 attacco ad acquario guardate se possiamo entrare subito ad acquario io vorrei prendere anche di progettate che se possiamo entrare subito ad acquario non c'è vittori no 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 vuoi attaccare tutti da acquario no acquario e da fuori marcia vertical su blu allora vuoto che non tengono anche sotto sì sì tengo da sotto sono vertical che non so se è scesa però devi apri tu castle quale? ti dobbiamo perciare VIP sì sarge dronami se c'è uno dietro il bancone aspetta 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 dimmi se è lì dimmi se è lì ditemi quando volete che apro il gatti volete che il drono anzi lo dronami tu dai che così ma al massimo un buioio dronami no dietro il bancone è qui allora chitarra ok c'è uno in vip c'è uno in vip dietro stereo secondo per una mano marcamelo col mio drone marcamelo col mio drone non serve che brici tengo da qua dal tetto non serve che brici non andate vip arrivo 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 gli ho perito io ormai ti lascio solo un attimo arrivo subito sono morto è diverso cazzo torre però ragazzo stiamo già iniziando da lì non fatemi cambiare tutto guarda jager cosa devo fare guarda via andate al plant oh ragazzi io sto già lì guardate guardami il drone vi apri il castle vi apri il castle ma raga ma c'è uno dentro acquario aspetta aspetta questo dietro bancone cristo dio lancio un aid ditemi se entro lì aspettate a push allora arriva un aid ma porca need esplosano c'è è in rotation ragazzi il castle io non lo so quanta oh castle non ce n'ho più non ce n'ho già rotti due rotation ragazzi il valchiri c'è un ufficio castle tene il pic tutto castle dalle vertica aspetta aspetta fanta druno fanta alle vertica l'occhio è andato via è andato via è blu è blu è blu è blu è andato via è andato via è andato via è andato via castle sale scale sale scale scale uca salito avete pusha raga non avete chiuso fuori nel corner fanta ha fatto buchi fanta sarge io due ne posso aprir e non lo sapevo che eravamo finita eh no infatti però raga non fateci cambiare l'attacco eh non so ma il rinforzo l'ho visto dopo che non c'era ed è quello che ho fatto all'inizio poi perché se copri se vai ad attaccare solo acquario loro in un modo o nell'altro hanno tutta quell'area pulita e si riescono a muovere se uno droppa giù e va a fare delle vertiche cose strane non li becchi infatti c'era valchiri sotto avevo lasciato il drone ragazzi eh raga bisogna almeno fare un po' di fuoco incrociato se no non puoi prendere solo una parte li lasci libera tutta l'altra parte di mappa uno solo basta che ci sia in VIP non tanti uno solo che copre il bar eh ok ma lo devi prendere ma il bar lo tenevo io perché non ho rinforzato il muro quindi infatti ho ucciso Jäger che ha passato ecco perché ho detto ruotare vabbè in ogni caso mi avete detto puoi andare a plantare c'era lì c'era dietro d'acquario ma ho detto andate per il plant ora cioè in senso era sottointeso non andate venire a plantare no eh ho capito ma non dillo però tanto no lo chiamo il oh questi sono un po' tardi però sì abbastanza hanno una mira di merda no ma in complesso non stavano giocando troppo bene no no non strattano benissimo attico siamo vip occhio vip c'è un link in sotto voi sì sarei io ok non c'è la sorella c'è la sorella c'è la sorella c'è la sorella uno verso main lo sento o sbaglio sì 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 sotto uno spero che non c'è un bolo forse è in red è in sunrise ok lascio la piazza con sunrise ragazzi fanno attaccare dietro vogliamo attaccare dietro da dietro vai da zulu sono giusto vai oh di datator ah ok da zulu ok va bene tengo sotto io tengo rotation nel lobby non da solo non da solo posso farlo da solo tranquillo no chiedi state in due posso entrare scalamini sono clear extra aspetta entra blu è clear la porta del site è chiusa dovevo prendere acquario è andata a valkyrie te stavo a pushar è rischiata assai acquario clear vai vai aspetta devo mettere il clamor ecco ti tengo il drone va bene ancora clear prezzo metti il clamor non ce l'ho dove la vuoi la clamor no non ce l'ho la clamor io qua fantà no merda perchè sei entravato perchè sono scemo niente uno arriva flank jagger in main jagger sotto main è in office guardami sto angolo guardami sto angolo è morto è morto aspetta nado nado ce n'è un altro uno scala in main sotto eh nado nado ancora scam di valkyrie boys qualcuno guarda a corridoio sarge sarge canale c'è una ce l'hai c'è la riega di main in base io le sto ganetto tieni tieni dark fai un po' di fuoco vai vai vip e clear vai scusa ex non te lo giuro non mi ero reso quando questa vibri c'è ader non c'è nascente c'è l'olio l'ho fatto non c'è la sciocca perché se è votato roda un mondo mi sento un io ero e conosci io andiamo la ragazza al volo tu di rinforzare lo scende chi ce l'ha ragazzi io se non sbaglio non lo so ah no non ce la voglio ce la vai castle diglielo mi ricordo io dallo al castle ma no no sei tu che lo prendi sei tu perchè andry faceva rotation ma io non... c'aveva l'eco l'eco c'aveva l'uscita ah ecco l'eco allora smoke di rinforzare vip rinforzare vip i due muri di vip vido su scale e difendi scale io ti metto troppo su io c'avevo il rinforzo vicino rotation di acquario e l'altro rotation di uca giusto? si faccio io dark la rotation in scale eh? stavo di fanta eh? anzi no io avevo un rinforzo qua in quadrato eh? devi rinforzare in quadrato eh? charge devi rinforzare quadrato li teglielo col microfono charge rinforzare quadrato charge rinforzare quadrato che rinforzare io? no, non, 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 sargent non, 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 non Ostia, operosis Si è rotto? Oh, mor... vabbè Manca il cazzo di vip Ok, vabbè Ok, smoke, mi sono andato da tutto, eh Raga, vengono vip, eh Probabilmente E ci credo Sono spawnati nella destra Occhio al tetto, occhio al tetto Explore Mai farlo così, eh Bruttissimo 1 e 90, 1 e... Mi chiedono sulla destra Dove c'è la cam Nel corridoio E' il blackbird del blackbird Bricciano vip BB sopra di te, Sarge Non importa se è un bracciato, raga Non possono fare niente da lì, eh Non l'ho bracciato male, vip Un po' Tronano sotto Uca, Manu, balconcin Uca Ti rappella da qualche parte Sarge, vieni via, Sarge, vieni via Sarge, vieni via Non salire Stanno entrando Kitchen, stanno entrando Kitchen, Sarge Bricciano Ma vuoi bang out Faccio il finestra Uca E' comunque coperto, eh Dai, porta il drone Fanta, porta il drone Tengo io Kitchen, tengo io Finestra Uca, Sarge Dark, la tengo io Kitchen Fanta, te lo guardo io il drone Ok, Luca, vanno plantando Penso Dark, tienimi sotto, per favore Portaci il drone Fanta, Luca Aspetta Tagge, hai rappelato Uca, eh Finestra Uca Non passa il drone, è di merda È da porta, è da porta, però Me la guardano Infatti stanno flashando Arriva il backbeard Scopritemi No, basta Ah, c'ho il drone sul site È clear il site Finestra ancora rappelato Ancora finestra Uca È rappelato ancora E tre Non più, non più, non più Finestra è clear È da me È da me Eh, mi ha pushato, era da coprite, però Finestra ancora Uca Ha rappelato È entrato in Uca Planta Sta plantando, Jaeger Planta Bravo Finestra uno È sceso Stopati, stopati È sceso Sarge, Sarge No, balconcino Non è plantato, non è plantato Dark Balconcino, balconcino Ma sei serio? Ma penso fosse per tutto Un po' Perché era lì A dipuntare, quando, non era Mi sono messo Mi sono messo Me è sopportare Ma guardare Comunque scusate, che era quella scale Io Mi dovevi Io È una strada Una strada Troppo tardi Scuso Fante Ma io che ho tornato il giacalo con le finestre l'avrei ucciso ragazzi che facciamo la struttura con il maestro no non la normale chi devo prendermi su scordare quella è tutta complicata devo prendere Valkyrie no? prendete quello che volete madonna raga mi piace pauroso questo flash scusa fanta veramente l'ho sentito che veniva solo che l'ho sentito troppo tardi lo so bro no ma non è tanto non c'è il calzone e poi cambia prendi quello tu vuoi prendi quello che vuoi e stava a fa' cazzeggio ah ok allora stiamo facendo cazzeggio cazzeggio relativamente esplicemente non mi ricordo tutti i rinforzi no 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 è complicata è da spiegare un po' di studio anche perché non è troppo lì cos'è dai eh l'ho fatta facciamo stare seria ma la scelta aperta non la devo rinforzare no 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 io mi fido di te facciamo stare ok ok mi fai anche pochi bassi dark grazie no no non la fa fai 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 non la devo sparare Devo far spunking, non chiudere la porta. No, non far spunking, non far spunking, per favore. No, che folle. E' una brutta persona. Sto spunking verso Aquarius. E' stato in giro là? Sto. Buca. Sto. Occhio Jäger. Hanno lo Jackal. Falcone VIP. E' un aperto, vuoto la bagna. Finissone VIP. Ti ho messo in trabagno, eh, se troppa. Sono tornato. Qualcone VIP c'è ancora? Iep, c'è in giro. Oh, finissone termite, ha volto vendato. E' andato te. Aspetta, ancora. Penso di sì. Sì, sì. Turcher e Capitao, fuori VIP. Sono ancora fuori? Uno e cordoglio dischi. Tiemme porta VIP. Due cordoglio dischi. Tienimi porta VIP. Non t'hanno vista, te? No. Dove plantano? Sono i dischi. Da porta dischi entrano, ragazzi. Finestra, finestra. Main, main, main. Quella è main, sì, giacal. Fanculo. Eita, non è a terra, è a sinistra, è a sinistra, è a sinistra, è a sinistra, è a sinistra. Oh, merda, merda, è nata, mica. È la tua destra, la destra, la destra, la destra. Ho giocato alla minchia. Oh, che falle. Dai, che vogliamo fa? Dai, gioco al senior site. Sarge, prendi il più lus, andiamo sotto. Figliano il giacal, regà. Sarge, prendi il più lus. Prendono il giacal. Dai, cazzo. Ti prendo il smocco, dai. Beh, è nato a caso. Tu sei morto, Dark. Ho detto un tricco. Eh, che tricco che ce l'ha lui? Eh, Cristo Dio. Prendi Clash, prendi Clash. Serio, serio, prendi Clash. Dobbiamo trollarla. Ma che avevamo fatto la strat noi, eh. Serio, con Clash. Eh, ma con Clash vecchia, adesso è stata una rifata. Vabbè, è sempre potente, oh. Forza natura, Clash. Vengo sotto con te, io, difendete. Ma hai detto di prendere Clash, bro? Fate vertical per difendimi, Dark. Ti faccio la vertical per porta a servizio. Ok, mi hai chiuso il muro. Ah, LOL. Eh, hai ragione. No, ah, sei tu, putzò, che sì. Che non è qua, che non è qua. Ma che c'è? LOL, bella. Claro, che siamo indronabili. Madonna, quando mi dici così mi fai... Serio. Ok, subito, eh, subito ingresso est. Ok. Rappellati finestrone. Detengo la main. Porco due, sono chiusi in vipio. Qualcuno mi tiene le cam dietro? Quelle di blu? Dare, che chiama se c'ho bisogno di un aiuto? Eh, ok. Prendo un netto. Io c'ho bisogno di un aiuto. Da. Da, Min. Grazie. Non puoi farmi un reset, riesci? Dove? Dove, raga? Sono in vip. Start the kitchen, mi sa. Reload! Sono andato, Jackal. Dai, io me la push. Esce risettami con le legion. Dove sei? Chi cazzo sei? Finestra. No. Finestra. Bip, 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 bip. No, no, bro. Corridoio? È qua che picchia le vertical, eh? Uno si è droppato da me. Corridoio? Corridoio? È vaso, eh? Questo va dove? S'avete col... Ti anzi? Guardo, cam. Ma, Lell. Dove? È giù in ingresso, bagno, bagno, scusate. Ma, Alex, lo... Non andate a prendere, boys. Avete due low, eh? Avete due low. Cazzo. È in main. Il defuser, raga, è in corridoio, eh? Per di insieme. Lui lo deve venire a prendere. Eh, ma che pallo. Ma lo push perché... André. Forza natura. André, hai visto come sono scappato? Da, da vip. Dai, madò, che cazzo ha fatto? Lell. Ma che non prendi quelle scelte? No, no, no. No, no. Quanto casino. Quanto casino no. Vale, male. Ma tu te li vedi a me, madò, ho fatto una cosa assurda, ho fatto. Noi cercavo di farmi kill, ma questi non puscivano. Ho segnato poche cose. Ciao ragazzi. Dopo dopo domani si parliamo. Bella, bella. Andiamo su non super. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Ok. User disconnected from your channel. No, questi erano un po' scarsini, però, eh? User disconnected from your channel. Sì, ma comunque, devo dire che erano scarsi, eh? Cioè... Sì, ma... Vogliamo pure giocare... Disconnected. In Oregon abbiamo giocato senza... Abbiamo giocato senza cold discharge in Oregon. Andre, ma che T3 erano? T3? Ma erano smart, eh, Andre? Sì. Cioè, uno era a livello 80, comunque... Cioè, è facile avere... Forse non erano scarsi sul personale, ma distratte erano pena. E' un po' di t4? Ecco. E' Gernot, tu, 3. Vabbè, sì. Andre, anche tu hai cose della Valkyrie. Io non posso scrivere Vabbè vado a letto Io sono un po' stanco